Ciao a tutti, oggi vi proporrò una ricetta superlativa, un altro modo di gustare le zucchine che personalmente adoro. Il carpaccio di zucchine è un antipasto o contorno semplicissimo che si prepara in pochissimi minuti, è senza cottura ed è ideale per la calda stagione estiva. Zero fatica, zero sudore, zero fornelli per ottenere in poco tempo una pietanza fresca, croccante ed elegante da portare sulle tavole d'estate. Prepararlo è di un semplice che più semplice non si può e lo potrete constatare anche voi. Ci occorrerà una zucchina piccola freschissima che dovremo affettare in maniera molto sottile con l'aiuto della mandolina oppure di un pela patate. Condizione imprescindibile per questa ricetta è l'ottima qualità della zucchina, protagonista assoluta. La mia è fresca di orto, ecco non so se si riesce a percepire lo spessore delle fette di zucchine, sono ultra sottili, in questo modo saranno tenerissime e perfette da consumare crude. Un altro elemento indispensabile per questa ricetta è la qualità del limone che dovrete utilizzare, dovrà essere biologico e freschissimo. Recaviamo il succo di mezzo limone con l'aiuto di uno spremi agrumi e ora inizieremo a comporre il nostro piatto. All'interno di una piccola pirofila in vetro pirex disponiamo le fette di zucchine una vicino all'altra e facciamo il primo strato. Irroriamo con un cucchiaino di succo di limone, origano a piacere oppure un'altra spezia che vi piace, un pizzico di sale e due foglie di menta sminuzzate. Io ho scelto la menta ma volendo potreste aggiungere basilico con aglio oppure prezzemolo, a voi la scelta. Per il secondo strato disponiamo le fette di zucchine nel verso opposto al primo, quindi in questo caso in orizzontale così come mostrato in video e ripetiamo lo stesso condimento, quindi succo di limone, sale, origano e menta. Continuiamo così fino ad arrivare all'ultimo strato che condiremo con un bel filo d'olio extravergine d'oliva, origano e menta. Muoviamo leggermente tra le mani il recipiente, in questo modo daremo una mescolata senza rovinare la composizione e permetteremo alle zucchine che stanno sotto di assorbire leggermente l'olio. Io il carpaccio di zucchine lo preparo in questo modo perché a me non piace tanto sentire il gusto troppo intenso dell'olio per cui lo verso solo nell'ultimo strato, ma so che alcune persone preparano un'emulsione mescolando assieme dal principio olio, succo di limone e spezie scelte a piacere e la versano poi in ogni strato, quindi anche in questo caso a voi la scelta, scegliete voi quello che più vi piace ovviamente. Ah dimenticavo, nell'ultimo strato io aggiungo anche un po' di scorza di limone grattugiata, sia per profumare bene il tutto e sia per decorare al meglio questo piatto. Ed eccolo prontissimo, elegante vero? Ed è super buono, lo potete consumare subito oppure far insaporire bene nel frigo coperto con pellicola trasparente e servire dopo circa 30 minuti. Per un gusto ancora più intenso lasciatelo nel frigo tutta la notte, l'indomani sarà eccezionale, un contorno perfetto per accompagnare le vostre cene estive quando si vuol mangiare qualcosa di leggero, semplice e fresco. Da quando ho scoperto questa ricetta e devo ringraziare la mia amica Naomi per avermela fatta scoprire, le zucchine le sto preparando sempre così, sono troppo buone, tenere ma croccanti allo stesso tempo, gustose e profumate. Spero tanto che questa ricetta vi sia piaciuta, vi mando un grosso bacione e vi rimando ai prossimi video. Ciao!